e oggi è venerdì, quindi stasera stiamo insieme vabbè non è che se non vado a lei dobbiamo per forza uscire, mica c'è che cago i soldi ogni giorno io io non è che cago i soldi alla mattina e alla sera che ti posso mantenere ho già preso 60.000 euro, non ne voglio spendere altri un milione allora che bello siamo che bello stiamo